Hanno avuto vita breve le notizie che davano per certa l'uscita di Sevel da Confindustria entro fine anno. Ad annunciare con ottimismo un cambio di rotta della fabbrica del Ducato e della Casa Madre Torinese è il presidente dell'Associazione degli Industriali di Chieti, Paolo Primavera, intervistato dal Tg Max. Ci sono buone prospettive affinché Fiat possa rientrare nel sistema Confindustriale. Certo, ci stiamo adoperando affinché assolutamente Confindustria non si può permettere di perdere un'azienda così importante e strategica per l'Italia. Quindi a maggior ragione è un'azienda strategica per la regione Abruzzo, sappiamo bene qual è il peso della Sevel all'interno della regione. La Sevel da sola rappresenta il 10% del PIL regionale, quindi sono dati importanti. Quindi assolutamente faremo di tutto affinché Sevel rimanga qui nella nostra compagine Confindustriale, ma principalmente si porta avanti quel progetto costruito insieme, che è quello del progetto del Campus dell'Automotive. Noi riteniamo uno dei progetti strategici affinché l'industria regionale abruzzese si rilanci in un discorso di innovazione, di ricerca. E quindi quel progetto va su quella strada ed è un progetto concordato e ben visto anche da Fiat. Il punto debole del sistema resta ancora quello delle infrastrutture in calza del presidente di Confindustria Chieti, dalla logistica all'information technology. Ma certo, questo lo stiamo ribadendo. Purtroppo spesso la politica cerca, nicchia un po' su delle richieste importanti e strategiche. Noi premiamo ancora sul fatto che là bisogna realizzare una serie di infrastrutture che riteniamo strategiche e importanti, ma non solo per la Sevel ma per l'intera vallata del Sangro. Assolutamente dobbiamo lanciare il progetto del porto industriale lì a Ortona, Ortona e Vasto, completamente alla Fonda Valle Sangro. Sono delle arterie importanti che riteniamo strategiche e da concludere. E poi un'altra azione importante è quella del progetto della banda larga nella Valle Sangro. Abbiamo un'area industriale così importante non servita dalla banda larga. Sotto questo aspetto abbiamo lanciato, per accelerare appunto i tempi, abbiamo lanciato noi una proposta come Confindustria a un investimento interamente su capitali privati, appunto per accelerare un processo che riteniamo strategico e importante. Quindi speriamo che la politica risponda in tempi rapidi.